ok telespettatori di cilento channel ben ritrovati per l'ottavo appuntamento con gli artisti internazionali di why mtv festival questo festival che come sapete ormai già in tanti si svolgerà qui nel cilento dal 4 al 25 di aprile e quindi vado subito a salutare agnese mandetta che è la mia collaboratrice agnese bentrovata ben trovato te gianni buonasera a tutti ciao e poi sal saluto il director ciro tomaiuoli ciro bentrovato ciao grazie buonasera a tutti e poi ancora un altro direttore sergi pudic ben trovato sergi ciao piacere ciao ciao a tutti benissimo allora partiamo subito nel presentare questi due film maker insomma e i loro film che parteciperanno appunto nel nostro festival e partiamo da sergi pudic director writer e producer del film short film the creator agnese traduci per me e poi dopo sentiamo il nostro ospite tell us about the city capito so this movie is called the creator it's a let's say the the movie about the lost muse and how the art is how how the how hard for artist is find the views in their life and sometimes it can be only recognition after their death so that is not the good but it's a let's say positive movie that done in sci-fi genre and can also what i like it sounds already strange what i like in my movie yeah what i like in my movie that it can be in interpret from different people in a different way uh so before before i start to publish it uh i showed the screen it to different bunch of people and um everyone uh tell me different meanings uh okay it was pleasant when the people were putting uh they're telling the meaning what i what i intend to to put but when the people were starting starting to find the different like a deep meanings uh in the way created of course maybe somewhere deep in my uh consequence i i intend to put it inside it but uh maybe i didn't think about it and it's it's really nice i think uh everyone can find it uh moreover this movie was done um in a very quick way it was um because now i'm uh located in china you can see there is a you have like a day now in rome uh probably sunny day i have a dark night in 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 beijing um so it it was um the competition this movie was created uh during the competition in china uh for of 48 hours um so from from the idea to the final draft almost okay it passed 48 hours i'm gonna stop you otherwise i won't be able to translate because i will have forgotten oh you won't translate me oh scusa yes i need to translate you okay okay gianny dunque questo film è di genere e di genere sci-fi quindi è un film diciamo impostato un po verso la fantascienza e appunto si intitola il creatore e quindi sergi lo ha lo ha girato con un determinato significato per lui aveva questa questa creazione però alle persone alle quali lo ha mostrato eh è sembrato il messaggio è stato diverso per ognuno di loro e questa è una cosa che a sergi piace molto perché ognuno trova il proprio significato in quello che lui ha creato quindi eh è molto soddisfatto di questa cosa ed è un film che è stato girato molto velocemente perché eh è accaduto diciamo durante 48 ore eh nelle quali c'era come una specie di gara una competizione per girare un film sergi in questo momento si trova in cina e stazionato a pechino beijing e quindi vive lì con la sua moglie romana molto bene ok grazie sergi grazie per te allora passiamo adesso invece a Ciro Tomaiuoli il film è un cortometraggio e eh ha per titolo BNB Broken Breakfast parlaci del film Ciro allora questo film eh nasce perché io vedo proprio l'esigenza di girare qualcosa di mio eh allora ho detto basta metto su una squadra una produzione e vediamo cosa possiamo girare tramite un mio eh amico regista anche lui più però di eh opere teatrali abbiamo deciso di realizzare eh una sua opera teatrale e quindi abbiamo fatto la trasposizione cinematografica l'adattamento cinematografico quindi in realtà questo corto nasce come opera teatrale adattato poi al cinema ecco perché è anche molto dialogato eh quasi una settimana di riprese perché veramente abbiamo realizzato l'impossibile ci sono delle inquadrature molto belle volute fortemente da me però eh difficile da realizzare eh una storia anche abbastanza lunga perché in realtà il prodotto principale eh durava circa venticinque minuti allora poi ho dovuto un attimo asciugarlo e portandolo a circa diciotto e mi piacerebbe perché in realtà finisce con una un occhio al futuro fare poi un sequel più avanti e a me piacciono tantissimo le storie che iniziano dalla fine infatti il mio corto inizia in media stress e nulla una troupe spettacolare professionale attori pure scelti con un casting accurato e devo dire che mi sono trovato molto 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 bene poi con alcuni addirittura ho continuato anche a lavorare questa storia la storia dei di BNB è un puro thriller e c'è dentro un po' di tutto cioè dal una situazione amorosa addirittura fino ad arrivare alla violenza sulle donne ehm nel titolo già svelo qualcosina perché eh BNB broken breakfast è vero che è un bed and breakfast perché eh la location è un BNB però il BNB sono le le iniziali delle due protagoniste Bea e Bianca broken perché all'interno c'è una rottura un una rottura di un rapporto di una situazione sentimentale quindi do dei piccoli indizi eh anche il rapporto tra le due sorelle è comunque abbastanza rotto esatto che si cerca di ricostruire poi si rompe si confonde eh c'è un mix anche di sentimenti all'interno della storia tra eh il il protagonista e la ragazza cioè è un piccolo mistero poi ho giocato molto con le musiche perché anticipavo un po' quello che succedeva con con la musica sì sì ho notato ho notato ho cercato di girare con sì diciamo che è un corso che devi vedertelo con quando hai la mente riposata perché sennò diventa anche difficile da capire però devo essere sincero tramite i riscontri che ho ricevuto io penso che quando si gira una storia al di là della la tecnica di tutto quello che si vuole usare la cosa principale si deve capire la storia perché se a fine film uno non ha capito di che cosa sta parlando ha già sbagliato a prescindere poi è tutto soggettivo è bella la tecnica l'inquadratura x non mi piace però la storia si deve capire altrimenti hai già fallito eh primo obiettivo che è quello più importante molto bene molto bene allora io direi di passare alla seconda domanda e quindi ritorno da sergi e la domanda riguarda la distribuzione a questo punto eh sergi se ho capito bene ehm vive in ucraina giusto sì certo sono ucraino ecco e allora lì com'è la situazione per quanto riguarda la distribuzione dei cortometraggi o dei lungometraggi insomma come state messi i cortometraggi i think like in ukraine like in any country in the world short movies is not that profitable to distribute so basically you can't earn any money from distribution of short movies and it's very hard to like i had i had several movies that went into tv uh national tvs in ukraine but um there was like a for free uh nobody pay me like the author's fee so i think of course there is a big problem uh for authorship and uh um uh how to say intention to do short movies in the future so that's why in ukraine most of the people uh doing short movies as a like a let's say training and or um um portfolio to to do a feature movies that can be somehow profitable it's like a situation a situation about distribution of short movies in ukraine ok dunque sergi ci dice che i cortometraggi purtroppo in ucraina vengono considerati come dei film di non di seconda categoria però non non viene pagato nulla per poterli proiettare in tv e quindi praticamente servono agli aspiranti registi come dei delle cose da mettere nel loro proprio portfolio eh per fare esperienza per per farsi insomma un eh un nome eh però basicamente insomma sono opere d'arte fini a se stesse che non danno poi eh la possibilità di avere un ritorno insomma dell'investimento fatto eh però nonostante tutto comunque sergi sui cortometraggi sono stati proiettati sulla tv nazionale quindi complimenti molto bene thank you sergi ehm ciro eh la situazione in italia insomma la conosciamo un po' però per quanto riguarda te insomma che ci puoi dire che esperienza hai avuto per eh distribuire i tuoi lavori insomma hai avuto difficoltà stai ottenendo delle difficoltà oppure insomma eh è abbastanza ehm facile oppure ci riesci con eh semplicità ecco questo vogliamo sapere. Allora purtroppo siamo sinceri anche in Italia non siamo fortissimi sulla distribuzione eh e mi associo un po' al quello che ha detto Sergi in Ucraina più o meno in Italia funziona così il cortometraggio eh viene visto più come un investimento come un biglietto da visita e non viene pubblicato sulle tv eh come se fosse una vera e propria opera ma io sono super soddisfatto perché reputo un cortometraggio non una fonte economica ovviamente perché non guadagni nulla dal corto ma come un come diceva anche Sergi un biglietto da visita un investimento per poi fare curriculum e cercare di fare altro magari un lungometraggio. Io invece vorrei fare una domanda se me lo permettete Ciro e Gianni ehm secondo voi con l'evoluzione che stiamo vivendo a causa della pandemia credete che si creerà ben presto una piattaforma dove poter distribuire questi cortometraggi e poter eh creare diciamo non dico un social per ogni regista però credete che prima o poi a qualcuno verrà l'idea di creare un canale pubblico eh tipo Vimeo nel quale si possono seguire i registi preferiti i cortometraggi preferiti che il pubblico possa dare un certo riconoscimento poi a quello che è il lavoro perché qui stiamo parlando di ore e ore di lavoro non solo di di chi ha girato il film ma di chi lo ha scritto la produzione la pre la post produzione insomma qui c'è tanto tanto lavoro che deve essere onorato in qualche modo e dato che oggigiorno siamo tutti sui social io credo che prima o poi a qualcuno deve venire in mente insomma di creare qualcosa del genere che ne pensi Gianni? Lascio la parola prima a Ciro che è anche mio ospite insomma e poi magari do io il mio piccolo contributo. Ma io io penso che da questa pandemia abbiamo imparato tantissime cose a livello professionale e abbiamo scoperto soprattutto che si possono fare riunioni tramite piattaforme cose che prima erano esistenti e guai non sia mai e quindi magari sai vedendo come si sta evolvendo la nostra nuova vita ormai possiamo dire davanti a un pc perché no possiamo essere fiduciosi e consapevoli che comunque si possa fare perché prima della pandemia tutto questo non accadeva. È chiaro che centomila volte stare con voi in studio a stringerci la mano e bere un caffè e non stare davanti a uno schermo questo sì però questo ci fa capire che è possibile fare anche come dicevi tu prima Agnese una piattaforma dove poter condividere distribuire discutere sarebbe molto bello attenzione però perché è un lavoro cioè io prima di mandare questo cortometraggio a una casa di distribuzione permettetemi di fare nome e cognome perché veramente è una manna dal cielo a drama film strong film distribution e soprattutto il mitico Andy Barreca che sta secondo me tra un po' rivoluzionerà la distribuzione in Italia grazie che è per lui me ne accorgo perché ci sentiamo spesso per lui è un lavoro perché prima di lui io avevo prima di contattare loro io ho cercato di pubblicizzare il mio corto su varie piattaforme ma ragazzi cioè devi stare dietro H24 cioè è impensabile prendere il corto metto su una piattaforma e fare tutt'altro dopo un po' veramente diventa un lavoro quindi mi auguro che qualcuno prenda questa considerazione che abbiamo fatto adesso e lo valuti non come un hobby o un speriamo che ma veramente come se fosse un lavoro vero e proprio sono perfettamente d'accordo con te Ciro ma ne approfitto per dirti che da quello che mi risulta ecco appunto lo stesso Andy Barreca che è il nostro amico figurati lo abbiamo conosciuto nel 2019 a Las Vegas e dicevo lui si sta muovendo molto bene con a drama ma ci sono anche altri altre piattaforme che stanno nascendo l'unico problema però che io purtroppo non diciamo riuscirò a risolvere è la mancanza della sala cinematografica in buio la concentrazione dove tu ti siedi proprio per vedere quel prodotto mentre le piattaforme streaming si sa bene di solito vengono insomma viste magari sul divano di casa tua o attraverso un telefono comunque sempre con le distrazioni esatto e allora non fruisci bene di quello che è il prodotto proprio cinematografico magari film più impegnati più intensi che ha spesso bisogna vederli più di una volta insomma non non è la stessa cosa non è la stessa atmosfera non ti entra nella mente insomma però diciamo così meglio questo che nulla pure perché sarà sempre più difficile tornare nelle sale o meglio quando torneremo ci saranno insomma limitazioni controlli e magari il tempo impiegheremo pure più tempo per fare la trafila per entrare per uscire insomma quindi magari può passare anche la voglia sempre per la mancanza di tempo che abbiamo a disposizione quindi di di andare al cinema perché poi diventerebbe quasi un sacrificio ecco questo io così vedo il futuro però mi auguro che nelle nuove case magari attiveranno sempre di più gli home theater quindi le le camere le stanze adattate proprio a cine a cine piccolo cineteatro allora lì si ecco potrebbe funzionare e io penso che questo avverrà primo poi perché chi ama il cinema si fa la sua saletta indipendente e quando vuole risetti rilassarsi a maggior ragione con una piattaforma si sceglie il film che vuole vedere quella sera e si ritorna diciamo così a sognare io questo è quello che veramente credo che prima o poi la gente si stancherà di vedere prodotti spazzatura sulla televisione pubblica vi confesso che nonostante il mio grande amore per il cinema io non ho la tv a casa perché non è possibile accendere la tv e guardare quello che oggi viene proposto in italia quindi preferisco fare in maniera completamente diversa quello che insomma il l'approccio alla cultura cinematografica avviene attraverso modi completamente insomma alternativi e molto più recenti e per me ecco è questa la vera cultura il fatto di vedere giovani e non giovani che si dedicano a voler creare un prodotto che dà un vero messaggio non solo italiani ma anche all'estero tutti si stanno muovendo per creare delle cose veramente bellissime io grazie a Gianni ai festival a cui ho partecipato ho potuto visionare delle cose meravigliose e vedo che molti cineasti eh sono persone che hanno un profondo senso della umanità chi sono da dove vengo che cosa lascerò quando non sarò più qui e a noi ci piace Agnese perdonami se ti interrompo ci piace conoscervi prima di presentare il film e quindi facciamo come se ci fosse realmente un festival anche se virtuale noi dobbiamo salutarci però perché sono le 15 e 59 alle 16 abbiamo la second session di interviste e quindi eh mi piace tanto però eh magari avremo modo di risentirci quindi ringrazio molto eh Sergi e Ciro grazie a voi ragazzi è stato veramente un grande piacere altrettanto altrettanto speriamo ci saranno altre occasioni certo 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 Sergi grazie tante per aver partecipato dalla Cina è bellissimo conoscerti salutami la tua famiglia grazie per voi buona giornata la vediamo dopo ciao ciao